Non chiamate la Rodriguez Io non mi chiamo la Rodriguez C'è perché ti voglio mettere un nome se non mi chiede un set È Lissandra Silva, cubana caliente, una madre natura di CiaoDarvin6 che ha posato con Sara Nile, Francesca Cipriani e Flo Marincea nel calendario 80 Nei suoi tre scatti ha reinterpretato le mitiche Laura Antonelli, Nadia Cassini ed Edwidge Fenech L'esperienza in tv come madre natura l'ha gratificata Io ero molto contenta, poi tra l'altro io penso che ognuno ha ciò che si merita, ognuno è quello che ottiene Innamorata di Marco Ferri con cui sta insieme da 5 mesi, Lissandra è laureata in economia figlia di un avvocato a basi solidi alle spalle, ma il mondo dello spettacolo la attrae Nel futuro recitazione tv, non solo come sexy girl però E sugli uomini e le differenze tra Cuba e Italia dice No, le uomini sono invece più romantici, meno rocchiscate La coppia Cuba-Italia mi piace La coppia Cuba-Italia mi piace La coppia Cuba-Italia mi piace